In studio parliamo di Lingua Madre, lo facciamo con Daniela Finocchi. Lingua Madre arriva alla quattordicesima edizione già quasi finita, si debutterà con la quindicesima a maggio. Benvenuta Daniela. Questo progetto longevo, necessario, forse oggi più che mai ce ne possiamo rendere conto. Sì, quando è nato nel 2005 devo dire che non c'era molto, anzi non c'era nulla su questo tema e il progetto è nato proprio con questo scopo, per dare voce a chi abitualmente non ce l'ha, tanto più alle donne che nell'ambito della migrazione sono discriminate due volte in quanto donne, in quanto migranti. Quindi, come giustamente dicevi, più che mai rimane purtroppo attuale questo tema e le donne che partecipano sia principalmente le donne straniere, ma c'è anche una sezione dedicata alle donne italiane perché lo scopo è proprio quello di creare relazione, scambio, confronto e anche offrire un'opportunità di ascolto per gli italiani e le italiane che vogliano mettersi in ascolto. E l'immagine che ne esce, così come negli anni precedenti, è quella di un racconto da parte delle donne che guarda al mondo come a un pianeta dove le differenze uniscano invece di separare. Questo mi sembra poi il messaggio più importante che ogni anno viene. È una visione che poi ha davvero un'applicazione nella realtà. Lo si vede anche dalle storie che diventano letteratura, a parte che diventano anche antologia e tutte le cose, tutti i racconti di Lingua Madre vengono poi pubblicati, però lo vediamo anche nel cinema. Certo, certamente. E proprio su questa cosa delle immagini, a parte che al concorso si può partecipare anche con una fotografia, non solo con i racconti. Una o più? Una. Una sopra. Una per ogni autrice, insomma, per ogni partecipante. e partecipano molte associazioni, gruppi, per esempio gli SPRAR, i centri delle università, anche quest'anno, insomma, hanno partecipato. L'Accademia Albertina, con tantissimi, perché ci sono tante allieve o ospiti straniere, e quindi hanno fatto proprio un grande lavoro tutte queste associazioni e enti durante l'anno per invogliare alla partecipazione. Daniela, se potessi provare a definire le donne straniere che partecipano a Lingua Madre e le donne italiane che possono farlo, qual è la diversità di approccio, se c'è? Ma direi che non c'è una diversità di approccio, perché, lo ripeto spesso, quello che emerge dai racconti che ci arrivano è proprio questo, che le donne da qualsiasi paese provengano, a qualsiasi cultura appartengano, anche a qualsiasi religione, se vogliamo, hanno poi un modo molto simile di affrontare la vita e di vivere negli eventi. E in questo si riconoscono. Devo dire che in 14 anni noi non abbiamo mai ricevuto nulla da parte delle donne italiane di negativo o di critico nei confronti delle donne migranti. E quanti complimenti avete invece ricevuto per la scelta del nome? Perché Lingua Madre è un nome che dice tutto, delle donne e della necessità di esprimersi. Sì, anche su questo c'è stata un'elaborazione di pensiero, perché noi chiediamo di scrivere in italiano, quindi spesso ci dicono, ma allora non è la lingua madre, ma invece sta proprio lì il senso del progetto, perché intanto si può partecipare anche se non si ha questa dimestichezza nell'italiano scritto, perché il bando non solo ammette, ma incoraggia la collaborazione tra donne italiane e donne straniere. proprio perché crediamo che nel confronto non si perda sul piano identitario, ma anzi ci si possa arricchire. E poi, in fondo, le donne sono abituate a esprimersi in una lingua che gli è straniera, nel senso che non gli appartiene, perché fa parte di quella cultura patriarcale a cui le donne non hanno preso parte, insomma, in qualsiasi parte del mondo. Quindi per questo Lingua Madre. Daniela Finocchi, nell'attesa della prossima edizione di Lingua Madre, nell'attesa di scoprire quali saranno i racconti contenuti nell'edizione 2019 di questa, che invece è l'Antologia 2018, che è disponibile per chiunque la volesse, io ti ringrazio di essere stata qui con noi e do l'appuntamento a Lingua Madre e scrivete e comunicate. La linea torna allo studio.